Seconda parte Ci fu molto da fare durante la serata. Vischio e agrifoglio erano stati portati in casa in grandi quantità e l'albero di Natale fu sistemato in un angolo della sala da pranzo. Tutti contribuirono alla sua decorazione, a infilare rami di agrifoglio dietro le cornici dei quadri e ad appendere un mazzo di vischio nella giusta posizione nell'atrio. «Non immaginavo che resistessero ancora a usanze così arcaiche», mormorò Desmond a Sara con una smorfia. «Lo abbiamo sempre fatto noi», disse Sara sulla difensiva. «Non è una buona ragione». «Non essere noioso, Desmond. Io lo trovo divertente». «Sara, amore mio, non è possibile». «Beh, forse non proprio sul serio, ma in un certo senso sì». «Chi avrà il coraggio di affrontare la neve per andare alla messa di mezzanotte?» domandò la signora Lacey venti minuti prima dello scoccare dell'ora. «Io no», disse Desmond. «Vieni, Sara». Posandole una mano sul braccio, la guidò in biblioteca e si diresse subito verso l'armadietto dei dischi. «Ci sono dei limiti, tesoro», disse. «La messa di mezzanotte». «Sì», disse Sara. «Certo». Con grandi risate, imbaccuccati fino agli occhi e fra un grande pasticciare di neve, quasi tutti gli altri si misero in cammino. I due ragazzi, Bridget, David e Diana, si avviarono verso la chiesa, distante una decina di minuti di cammino, mentre i fiocchi cadevano. Le loro risate si smorzarono a poco a poco allontanandosi. «Messa di mezzanotte», brontolò sbuffando il colonnello lesi. «Mai andato alla messa di mezzanotte quando ero ragazzo?» «Messa, ma guarda un po'. «Roba papista, ecco!» «Vi chiedo scusa, Messier Poirot». Poirot fece un lieve gesto. «Per carità, non badate a me. La funzione del mattino dovrebbe essere più che sufficiente per chiunque, secondo me», continuò il colonnello. «Un bel servizio religioso della domenica. Ascolta, gli angeli messaggeri cantano, e tutti i bei vecchi inni natalizi, e poi di nuovo a casa per il pranzo di Natale. Non è così, Em?» «Sì, caro», disse la signora Lesi. «È così che facciamo noi, ma ai giovani piace la funzione di mezzanotte, ed è bello sul serio che provino il desiderio di andarci». «Sara e quel bel tipo non ci sono voluti andare». «Ecco, mio caro, su questo non credo che tu abbia torto», disse la signora. «Sara, lo sai, sì, che voleva andarci, ma non aveva voglia di ammetterlo». «Non riesco a capire perché le importi tanto dell'opinione di quell'individuo». «È molto giovane, ecco», disse placidamente la signora Lesi. «Andate a letto, Messie Poirot. Buonanotte. Spero che dormirete bene». «E voi, madame, non andate ancora a letto?» «Non ancora», disse la signora Lesi. «Vedete, ho le calze da riempire. Oh, non so che ormai non sono più bambini, anzi, praticamente sono adulti». «Ma non tale debole per la storia delle calze. Così ci si mette dentro qualcosina per scherzo. Cosette da niente, però è molto divertente». «Lavorate con molto impegno per rendere allegra la casa per il Natale», disse Poirot. «Vi ammiro», si portò la mano della signora Lesi alle labbra, con un gesto pieno di galanteria. «Mmm», borbottò il colonnello Lesi quando Poirot si fu ritirato. «Tutto salamelecchi quel tizio, però ti apprezza». La signora Lesi gli rivolse un sorriso che era tutto una fossetta. «Oras, non ti sei accorto che sono sotto il vischio?» gli domandò con tutto il pudico candore di una ragazza di 19 anni. Il Chiul Poirot entrò nella sua camera da letto. Era molto vasta e ben provvista di termosifoni. Mentre si dirigeva verso il grande letto a baldacchino, notò una busta posata sul cuscino. L'aprì ed estrasse un foglio di carta. Sopra vi era scritto, a caratteri maiuscoli vergati con mano tremante, «Non mangiate il dolce, una persona che vi augura ogni bene». Il Chiul Poirot restò un momento a fissare il messaggio, poi le sue sopracciglia si alzarono. «Ermetico», mormorò, «e assolutamente inaspettato». Il pranzo di Natale cominciò alle due e fu davvero una gran festa. Giganteschi ciocchi di legna scoppiettavano allegramente nel grande camino e una babele di lingue che chiacchieravano tutte insieme si fondeva e sovrastava con il loro allegro scoppiettio. La zuppa di ostriche era già stata consumata ed erano arrivati due enormi tacchini che quando furono riportati via erano ridotti alla pura e semplice carcassa di ciò che erano stati. E ora, momento culmine del pranzo, ecco che il dolce di Natale veniva servito in tavola con tutte le cerimonie del caso. Il vecchio Peverell, mani e ginocchia tremanti per la debolezza degli 80 anni, non permetteva ancora a nessun altro di portarlo in tavola. La signora Lesi, seduta al suo posto, si stringeva le mani intrecciate per il nervosismo e l'apprensione. Un Natale, nera certa, Peverell sarebbe crollato sul pavimento morto. Ma dovendo scegliere fra il rischio di vederlo crollare i cadavere al suolo e quello di provocargli un tale senso di dolore e di offesa che il poveretto probabilmente avrebbe preferito morire all'istante piuttosto che sopravvivere, aveva optato per la prima alternativa. Il dolce di Natale riposava sul piatto d'argento in tutto il suo splendore. Era grosso come un pallone da football. Vi avevano infilato un ramoscello di agrifoglio che sembrava una bandierina trionfante ed era circondato da un cerchio di magnifiche fiamme blu e rosse. Ci furono grida di entusiasmo ed esclamazioni piene di ammirazione. La signora Lesi aveva ottenuto un piccolo successo. Era riuscita a convincere Peverell a posare il piatto con il dolce davanti a lei invece di portarlo in giro per tutta la tavola per servire ciascuno dei presenti. Avrebbe distribuito lei le porzioni. Rapidamente i piatti passarono di mano in mano mentre le fiamme lambivano ancora le singole porzioni. «Esprimete un desiderio, Messie Poirot!» esclamò Bridget. «Esprimete un desiderio prima che le fiamme si spengano! Presto, nonina, cara, presto!» La signora Lesi si appoggiò allo schienale della sedia con un sospiro di soddisfazione. L'operazione dolce di Natale era stata un successo. Eccone una fetta davanti a ciascuno, con le fiammelle che ancora ardevano. Ci fu un momento di silenzio intorno alla tavola mentre tutti formulavano in silenzio il loro desiderio. Così nessuno si accorse dell'espressione piuttosto strana che si era disegnata sulla faccia di Messie Poirot mentre esaminava la porzione che aveva sul piatto. «Non mangiate il dolce!» Cosa diavolo voleva dire quel sinistro avvertimento? Possibile che ci fosse qualcosa di diverso fra la sua porzione di dolce e quella di chiunque altro? Sospirando, dovette ammettere con se stesso di essere sconcertato e archiù il Poirot non piaceva mai ammetterlo. Poi afferrò il cucchiaio e la forchetta. «Un po' di crema, Messie Poirot?» Poirot si servì abbondantemente di quella crema appetitosa. «Hai adoperato di nuovo il mio brand migliore, ehm?» disse bonariamente il colonnello dall'alto capo della tavola. La signora Lesi gli strezzò un occhio. «La signora rossa insiste sempre per avere il brand migliore, caro», disse. «Secondo lei fa una gran differenza». «Bene, bene», disse il colonnello Lesi. «Natale capita solo una volta l'anno e la signora rossa è una grandonna, una grandonna e una gran cuoca». «Proprio vero», disse Colin. «Un dolce da favola, questo!» e si riempì la bocca golosa. Delicatamente, quasi con precauzione, il chiu il Poirot attaccò la propria porzione di dolce. Ne mangiò un boccone. Era squisito. Ne mangiò un altro. Qualcosa tintinnò lievemente sul suo piatto. Induggiò con la forchetta. Bridget, che sedeva alla sua sinistra, gli venne in aiuto. «Avete trovato qualcosa, Messie Poirot?» disse. «Chissà di che cosa si tratta». Poirot staccò un oggettino d'argento che si era appiccicato all'uva passa. «Oh!» esclamò Bridget. «È il bottone dello scapolo! Messie Poirot ha trovato il bottone dello scapolo!» E il chiu il Poirot immerse il bottoncino d'argento nella coppetta con l'acqua per le dita che si trovava di fianco al suo piatto e lo ripulì con cura dalle briciole di dolce. «È molto carino», disse. «Vuol dire che siete destinato a rimanere scapolo, Messie Poirot!» esclamò Colin con l'intenzione di rendersi utile. «Escera ad aspettarselo», disse Poirot in tono grave. «Sono stato scapolo per così tanti anni ed è abbastanza improbabile che debba cambiare stato civile adesso». «Oh, non si può mai sapere!» disse Michael. «Ho letto sul giornale l'altro giorno che un tale di 95 anni ha sposato una ragazza di 22». «È un incoraggiamento per me?» disse Hercule Poirot. Il colonnello Lessi proruppa all'improvviso in un'esclamazione. Diventò paonazzo e si portò una mano alla bocca. «Ascidenti, Emmeline!» ruggì. «Perché diavolo hai permesso alla tua cuoca di mettere dei vetri nel dolce?» «Vetri?» disse la signora Lessi sbalordita. Il colonnello Lessi tirò fuori dalla bocca il pericoloso materiale. «Avrei potuto rompermi un dente!» boffunchiò. «O inghiottire questo accidente e farmi venire l'appendicite!» Lascia cadere il pezzettino di vetro nella coppetta per le dita. Lo sollevò e lo guardò. «Che Dio mi benedica!» esclamò sbalordito. «Deve essere una pietra finta saltata via da una di quelle spille che ci sono nei pacchetti con la sorpresa!» e lo sollevò. «Permettete?» Con molta abilità Messie Poirot si era allungato oltre la sua vicina di tavola. Aveva preso la pietra dalle dita del colonnello e si era messo a esaminarla con attenzione. Come aveva detto il padrone di casa era una pietra rossa enorme del colore del rubino. Mentre la rigirava fra le dita da ogni sfaccettatura colpita dalla luce si levò uno scintillio. In un punto imprecisato intorno al tavolo una sedia fu sospinta bruscamente indietro e poi avvicinata di nuovo. «Perbacco!» esclamò Michael. «Che colpo se fosse vera!» «Forse lo è!» disse Bridget speranzosa. «No, non dire idiozie, Bridget! Figuriamoci! Un rubino di quella grandezza avrebbe migliaia e migliaia di sterline! Non è vero, Messie Poirot?» «Proprio così!» confermò Poirot. «Ma è quello che io non capisco!» disse la signora Lessie. «E come ha fatto a finire nel dolce?» «Oh!» esclamò Colin distratto dall'ultimo boccone. «Mi è capitato il porcello! Non è giusto!» Bridget si mise subito a fargli il verso. «Colin ha avuto il porcello!» «Colin ha avuto il porcello!» «Colin è un porcello che mangia fino a scoppiare!» «Io ho avuto l'anello!» disse Diana con voce alta e limpida. «Buon per te, Diana! Sarai la prima a sposarti fra tutti noi!» «A me è capitato il ditale!» piagnucolò Bridget. «Bridget sarà una vecchia zitella!» proclamarono a gran voce i due ragazzi in coro. «Sì, Bridget diventerà una vecchia zitella!» «Chi ha avuto i quattrini?» domandò David. «In questo dolce c'è una moneta d'oro da dieci scellini, autentica!» «Lo so perché me l'ha detto la signora Ross!» «Credo di essere io il fortunato mortale!» disse Desmond Lee Wortley. I due vicini di tavolo del colonnello Lacy lo udirono borbottare. «Sì, c'era da immaginarselo!» «Guarda un po',» disse David. «Ho avuto anch'io un anello!» «E guardò Diana attraverso la tavola!» «Che coincidenza, vero?» Le risate continuarono. Nessuno si accorse che Messier Poirot si era infilato in tasca con non curanza, come sovrappensiero, la pietra rossa. Al dolce fecero seguito i pasticcini di frutta secca e i biscotti natalizi. Poi i più anziani si ritirarono per un ben meritato riposino, prima della cerimonia dell'illuminazione dell'albero di Natale, prevista per l'ora del tè. Tuttavia, Erquiel Poirot non andò affatto a riposarsi. Al contrario, raggiunse l'enorme cucina all'antica. «È permesso?» chiese, guardandosi intorno e illuminandosi tutto con piaciuto. «Congratulazioni alla cuoca per il magnifico pranzo che ha appena preparato!» Ci fu un momento di pausa e poi la signora Ross si fece avanti solennemente ad accoglierlo. Era un donnone grande e grosso dalla corporatura imponente, con tutta la degnità di una duchessa da commedia. Due donne magre con i capelli grigi erano alle sue spalle, intente a lavare i piatti davanti all'acquaio e una ragazza con i capelli color paglia andava e veniva dallo stanzino dell'acquaio. Ma quelle evidentemente erano soltanto le ancelle. La vera regina della cucina era la signora Ross. «Sono lieta che vi sia piaciuto!» disse con cortesia. «Piasciuto?» esclamò Erquiel Poirot. Con un bizzarro gesto si portò una mano alle labbra, le baciò e poi soffiò il bacio verso il soffitto. «Ma voi siete un genio, signora Ross, un autentico genio! Mai, mai mi è capitato di gustare un pasto così squisito, la zuppa di ostri che fece uno schiocco espressivo con le labbra e il ripieno, il ripieno di castagne del tacchino. Quella è stata un'esperienza unica!» «È curioso sentirvelo dire, signore!» disse con benevolenza alla signora Ross. «È una ricetta assolutamente speciale, quella del ripieno. Me l'ha data uno chef austriaco con il quale ho lavorato molti anni fa, ma tutto il resto, aggiunse, è semplice, buona cucina inglese!» «C'è forse qualcosa di meglio?» domandò Erquiel Poirot. «Siete gentile a dirlo, signore. Naturalmente, visto che siete straniero, forse avreste preferito lo stile continentale, per quanto credo di riuscire a cavarmela anche con la cucina continentale, io!» «Sono sicuro, signora Ross, che sappiate cavarvela con qualsiasi cucina, ma dovete sapere che quella inglese, la buona cucina inglese, non quella che si trova negli alberghi o nei ristoranti di secondo ordine, è molto appressata dai gourmands del continente e credo di non sbagliare dicendo che all'inizio del Settecento è stata fatta addirittura una specie di spedizione a Londra per portare in Francia i meravigliosi dolci e bodini inglesi? «Non abbiamo niente di simile in Francia», scrissero quelli che erano venuti qui. «Un viaggio a Londra merita di essere fatto soltanto per gustare tutta la varietà e la squisitessa dei dolci inglesi, ma un gradino sopra tutti». Continuò Poirot ormai lanciato in una specie di rapsodia. «C'è il dolce di Natale, proprio come quello che abbiamo mangiato oggi. Era fatto in casa, vero? Non acquistato fuori». «Sì, certamente, signore, preparato da me con la mia ricetta che uso da molti anni. Quando sono venuta qui la signora Lacey mi disse di aver ordinato il dolce di Natale in un negozio di Londra per risparmiarmi questa fatica». «Ma no, signora», ho detto io, «per quanto sia stato gentile da parte vostra nessun dolce comprato in una pasticceria può rivaleggiare con uno fatto in casa». «Vadate bene», continuò la signora Ross, accalorandosi su quell'argomento da vera artista quale in realtà era, che veniva preparato molto tempo prima del giorno di Natale. Un buon dolce di Natale dovrebbe essere fatto varie settimane prima e poi lasciato a riposare. Più riposa, naturalmente, per un periodo di tempo ragionevole, più è buono. Ricordo ancora che quando ero bambina e andavamo in chiesa ogni domenica aspettavamo sempre l'orazione che comincia così. «Dacci tu la forza, oh signore, noi ti preghiamo». Perché quell'orazione era il segnale che il dolce doveva essere preparato in quella settimana. Così avremmo dovuto fare anche qui quest'anno. Invece è stato preparato soltanto tre giorni fa, il giorno in cui siete arrivato voi, signore. Comunque io ho mantenuto le antiche usanze. tutte le persone di casa sono venute in cucina a dargli una mescolatina e a esprimere un desiderio. È un'usanza dei vecchi tempi, signore, e io faccio in modo che venga rispettata. «Molto interessante», disse Ercchio il Poirot. «Molto interessante. Così tutte le persone di casa sono venute in cucina?» «Sì, signore. I signorini, la signorina Bridget, e quel signore di Londra che sta qui, e sua sorella, il signor David, la signorina Diana, cioè la signora Middleton, dovrei dire. Sì, signore. E tutti gli hanno dato una mescolatina. Quanti dolci avete fatto? O forse questo è l'unico? No, signore, ne ho fatti quattro. Due più grossi e due più piccoli. L'altro grosso pensavo di servirlo a Capodanno, mentre quelli piccoli erano per il colonnello e la signora Lessi quando saranno soli e non avranno qui tutta la famiglia. Già, già», disse Poirot. «Anzi, a dire la verità», continuò la signora Ross. «A pranzo quest'oggi avete avuto il dolce sbagliato». «Il dolce sbagliato?» Poirot aggrottò le sopracciglia. «Come sarebbe?» «Ecco, signore, abbiamo una grossa forma per Natale. È di porcellana con un motivo di agrifoglio e di vischio sopra e ci abbiamo sempre fatto cuocere dentro il dolce per il giorno di Natale. Ma è successa una disgrazia. Stamattina, mentre Annie la tirava giù dallo scaffale della dispensa, lei è scivolata e si è rotta. Naturalmente, signore, non potevo certo servirlo lì, giusto? Poteva esserci finita dentro qualche scheggia. Così abbiamo dovuto usare l'altro, quello per Capodanno, che era stato messo in una forma molto più semplice. Ma chissà dove riusciremo a trovare un'altra come quella che si è rotta. oggigiorno non fanno più roba di quelle dimensioni, tutte cosette piccole, figuriamoci, non si riesce neanche più a trovare un bel piatto da prima colazione come quelli di una volta dove si facevano stare da otto a dieci uova e pancetta. Ah, sono passati i tempi. Già, proprio così, disse Poirou. Oggi è tutto diverso, per questo Natale è stato proprio come quelli dei tempi andati, non è vero? La signora Ross sospirò. Sono contenta di sentirvelo dire, signore, per quanto naturalmente io non ho più l'aiuto che avevo una volta, non l'aiuto di gente pratica, voglio dire, le ragazze oggi. Abbassò leggermente la voce. Sono piene di buone intenzioni e molto volenterose, ma non sono state addestrate, signore, se capite quello che voglio dire. E i tempi cambiano, certo, ammise Poirou. Anch'io qualche volta lo trovo triste. Questa casa, signore, disse la signora Ross, è troppo grande, vedete, per la signora e per il colonnello. La signora lo sa benissimo e poi vivendo solo in un angolo di questa casa come fanno? Non è la stessa cosa, assolutamente. Sembra che ridiventi viva, si può dire proprio così soltanto a Natale, quando viene tutta la famiglia. Mi pare che sia la prima volta che viene signor Lee Wortley e sua sorella, vero? Sì, signore. Una leggera intonazione di riservo si insinuò nella voce della signora Ross. Un simpaticissimo signore, questo sì, ma sembra un amico un po' strano per la signorina Sara, secondo le nostre idee, ma insomma, a Londra è tutto diverso. Che peccato che sua sorella non stia bene, è stata operata. Sembrava che stesse bene il primo giorno che è venuta qui, ma poi, subito dopo aver dato quella mescolatina al dolce, ha cominciato a star male e da allora è sempre rimasta a letto. Secondo me si è alzata troppo presto dopo l'operazione. I dottori oggigiorno ti cacciano fuori dall'ospedale quando quasi quasi non riesci ancora a stare in piedi. Si figuri che la moglie di mio nipote è anche lei e la signora Ross si addentrò nella lunga e animata descrizione del trattamento ospedaliero ricevuto da quei suoi parenti, confrontandolo sfavorevolmente con le premure che erano state riversate su di loro in altre precedenti occasioni. Fuero la commiserò doverosamente. Non mi resta, disse infine, che ringraziarvi per questo pasto squisito e sontuoso. Mi permetterete un piccolo segno del mio appressamento? Un biglietto da cinque sterline nuovo di zecca passò dalla sua mano a quella della signora Ross che per salvare le apparenze disse Davvero non dovreste farlo signore? Insisto, insisto. Bene, è molto gentile da parte vostra, davvero. La signora Ross accettò l'omaggio né più e nemmeno come se le fosse dovuto e io vi auguro signore un felice Natale e un prospero capodanno. La fine del giorno di Natale fu come la fine della maggior parte dei giorni di Natale. L'albero venne illuminato, per il tè comparve una stupenda torta natalizia che fu accolta con approvazione ma gustata solo moderatamente. Poi fu servita una cena fredda. Poirot e i padroni di casa andarono a letto presto. Buonanotte, Messie Poirot, disse la signora Lacy. Spero che vi siate divertito. È stata una giornata magnifica, madame, magnifica. Mi sembrate molto pensieroso, disse la signora Lacy. È al dolce di Natale che penso. Lo avete trovato un po' pesante, forse, si informò con delicatezza la signora Lacy. No, 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 non parlavo dal punto di vista gastronomico, pensò al suo significato. È tradizionale, naturalmente, disse la signora Lacy. Buonanotte, Messie Poirot, e non sognate troppi dolci di Natale e troppi pasticcini con la frutta secca. Sì, mormorò Erchiù il Poirot mentre si spogliava. È proprio un bel problema quel dolce di Natale. C'è qualcosa qui che non capisco affatto. Scosse la testa insoddisfatto. Bene, staremo a vedere. Dopo aver fatto alcuni preparativi, Poirot si mise a letto, ma non per dormire. Fu all'incirca due ore dopo che la sua pazienza venne premiata. La porta della camera da letto si aprì delicatamente. Lui sorrise tra sé, proprio come aveva pensato. Ripensò fuggevolmente alla tazza di caffè che Desmond Lee Wortley gli aveva portato con tanta cortesia. Poco dopo, mentre Desmond gli voltava le spalle, aveva posato la tazza su un tavolo per pochi minuti. Poi, almeno in apparenza, aveva ripreso in mano quella stessa tazza e Desmond aveva avuto la soddisfazione, se poi era tale, di vedergli bere quel caffè fino all'ultima goccia. Però un sorrisetto aveva sollevato i baffi di Poirot, mentre rifletteva che non lui, ma qualcun altro, avrebbe dormito sodo per tutta la notte. Quei simpatico David, aveva pensato Poirot, è preoccupato, infelice, non gli farà male una buona nottata di sonno profondo e adesso vediamo un po' cosa sta per succedere. Rimase disteso dov'era, immobile, respirando ritmicamente e insinuando in quel respiro di tanto in tanto un rumore appena appena un po' più forte per dare l'impressione di russare lievemente. Qualcuno si avvicinò al letto e si chinò su di lui. Poi soddisfatto, si allontanò per dirigersi verso il tavolino da toilette. Alla luce di una sottile torcia elettrica, il visitatore cominciò a esaminare tutti gli oggetti che appartenevano a Poirot ed erano disposti in bell'ordine sul piano della toilette. Dite esplorarono il portafoglio, aprirono cautamente i cassetti del tavolino e infine estesero le ricerche alle tasche degli abiti di Poirot. Infine, il visitatore si avvicinò al letto e con mille cautele insinuò una mano sotto il cuscino. Poi la ritirò e rimase per un attimo incerto sul da farsi. Girò per la camera guardando dentro i vasi e gli altri oggetti ornamentali poi passò nel bagno comunicante dal quale tornò quasi subito. Infine, con una sommessa esclamazione di disgusto uscì dalla camera. Ah, mormorò Poirot sottovoce. Hai avuto una delusione? Sì, sì, una grossa delusione. Come fai a immaginare che Poirot nasconda qualcosa in un posto dove potresti trovarlo? Poi girandosi dall'altra parte si addormentò pacificamente. La mattina dopo fu svegliato da qualcuno che bussava alla sua porta sommessamente ma con insistenza. Chi è là? Avanti, avanti! La porta si spalancò. Anzante, rosso in faccia, sulla soglia apparve Colin. Dietro di lui c'era Michael. Monsieur Poirot! Monsieur Poirot! Ma sì! Si mise a sedere sul letto. E la mia tazza di tè? Ma no, sei tu Colin, cos'è successo? Colin per un attimo rimase senza parole. Sembrava in preda a una forte emozione. In realtà si trattava semplicemente della visione della berretta da notte che Poirot aveva in testa, a renderlo incapace di profferire una sola parola ma riacquistò subito il controllo di sé e disse Ecco, credo, Monsieur Poirot potrebbe aiutarci. È capitata una cosa terribile. È successo qualcosa e di che si tratta? È Bridget, è fuori nella neve. Io credo non si muove e non parla. Sarebbe meglio che veniste a vedere coi vostri occhi. Ho una paura terribile che possa essere morta. Cosa? esclamò Poirot buttandosi da parte le coperte. Mademoiselle Bridget morta. Io credo che qualcuno l'abbia ammazzata. C'è anche del sangue. Venite presto. Ma certo, certo, vengo immediatamente. Per fare in fretta Poirot infilò i piedi in un paio di scarpe da passeggio e si infilò il cappotto bordato di pelliccia sul pigiama. Vengo disse. Vengo all'istante. Avete già svegliato gli altri? No, finora abbiamo detto soltanto a voi. Ho pensato che fosse meglio. I nonni non si sono ancora alzati, stanno apparecchiando per la colazione in sala da pranzo, ma non ho detto niente a Peverel. Lei, Bridget, è dall'altra parte della casa, vicino alla terrazza e alla finestra della biblioteca. Capisco, fatemi strada, vi seguirò. Voltandosi da un lato per nascondere un sorrisetto di gioia, Colin lo precedette al piano terra. uscirono da una porta secondaria. Era una mattina limpida e il sole non appariva ancora all'orizzonte. Non ne scendeva più, però la neve doveva essere caduta abbondantemente durante la notte e tutto intorno a loro il manto nevoso appariva intatto. Il mondo sembrava purissimo e bianco. Ecco, disse Colin alzante, è là e indicò un punto con gesto drammatico. La scena effettivamente era abbastanza drammatica. A pochi metri di distanza Bridget era distesa fra la neve, portava un pigiama rosso e aveva uno scialle di lana bianca intorno alle spalle. Lo scialle bianco era macchiato di rosso. Aveva la testa girata da un lato e nascosta dalla massa scomposta e allargata dei capelli neri. Un braccio era sotto il corpo, l'altro allargato con le dita contratte e al centro della grossa miacchia di sangue si vedeva l'impugnatura di un grosso pugnale ricurvo, curdo, che il colonnello Lesi aveva mostrato ai suoi ospiti appena la sera prima. «Mondie!» esclamò Poirot. «Sembra una scena da commedia!» Michael si lasciò sfuggire un lieve suono strozzato. Colin gli venne in aiuto. «Lo so!» disse. «Effettivamente non sembra proprio reale!» «Vedete le impronte dei piedi!» «Bisognerà stare attenti a non calpestarle!» «Ah, sì, le impronte!» «No, dobbiamo badare a non rovinarle!» «È proprio come pensavo!» disse Colin. «Ecco perché non ho voluto che nessuno si avvicinasse finché non vi avessero chiamato!» «Pensavo che voi avreste saputo cosa fare!» «A ogni modo!»» disse Hercule Poirot in tono sbrigativo «Prima di tutto dobbiamo sapere se è viva, non vi pare?» «Beh, sì, certo!» disse Michael un po' dubbioso. «Ma vedete, noi pensavamo, voglio dire, non volevamo…» «Ah, siete prudenti voi!» «Avete letto i romanzi polisieschi!» «La cosa più importante è che non si tocchi niente che il cadavere rimanga come è stato trovato!» «Fino a questo momento non sappiamo ancora se è realmente un cadavere, no?» «In fondo, per quanto amirevole sia la prudenza, l'umanità viene prima di tutto! Dobbiamo pensare al dottore, non vi pare? Prima di pensare alla polisia!» «Oh, sì, certo!» disse Colin sempre un po' perplesso. «Allora restate dove siete voi due!» disse Poirot. «Io mi avvicinerò dall'altro lato in modo da non calpestare queste impronte. Sono eccellenti, no? Talmente chiare e nette le impronte dei piedi di un uomo e di una ragassa che si avviano insieme al posto dove poi lei è distesa e poi le impronte dell'uomo che tornano indietro ma quelle della ragassa no!» «Devono essere le impronte dell'assassino!» disse Colin con un filo di voce. «Esattamente!» disse Poirot. «Le impronte dell'assassino! Un piede lungo e stretto con un tipo particolare di scarpa molto interessante, facili da riconoscere, se queste impronte sono molto importanti!» In quel momento Desmond Lee Whartley uscì di casa con Sara e li raggiunse. «Cosa diavolo state facendo tutti lì?» domandò in tono un po' drammatico. «Vi ho visto dalla mia camera da letto!» «Cosa c'è?» «Buondio!» «Cosa sarebbe quella? Sembra... sembra proprio...» «Esattamente!» disse Hercule Poirot. «Sembra proprio un delitto!» Sara sussultò con il fiato mozzo, poi lanciò un'occhiata insospettita ai due ragazzi. «Volete dire che qualcuno ha ammazzato la ragazza? Come si chiama? Bridget?» domandò Desmond. «Chi volete che possa avere interesse ad ammazzarla? È incredibile!» «Ci sono molte cose incredibili!» sentenziò Poirot. «Specialmente prima di colazione, vero?» «Ecco, c'è uno dei vostri detti più famosi «Sei cose impossibili prima della colazione!» e aggiunse «Per favore aspettate tutti qui!» Facendo cautamente un lungo giro si avvicinò a Bridget e si chinò per un attimo sul corpo. Colin e Michael a questo punto tremavano per lo sforzo di controllare le risate. Sara si unì a loro mormorando «Cosa avete combinato voi due?» «Brava vecchia Bridget!» mormorò Colin sottovoce «È fantastica! Neanche un fremito!» «Non ho mai visto nessuno sembrare morto come sembra morta Bridget in questo momento!» sussurrò Michael. Hercule Poirot si rialzò «È una cosa terribile!» disse. Nella sua voce si era insinuata una commozione che prima non si sentiva. Travolti dalla risate confuse e soffocate Colin e Michael gli voltarono le spalle con voce strozzata Michael riuscì a dire «Cosa cosa dobbiamo fare?» «C'è una sola cosa da fare» disse Poirot «Andare a chiamare la polizia c'è qualcuno di voi che vuole andare a telefonare o preferite che lo faccia io?» «Secondo me» disse Colin «Michael tu che cosa ne pensi?» «Sì» disse Michael «Penso che lo spasso sia finito» fece un passo avanti per la prima volta sembrò meno sicuro di sé «Sono terribilmente spiacente» disse «Spero che non ve la prenderete troppo era una specie di scherzo di Natale e via dicendo sapete noi pensavamo che beh vi avremmo organizzato qui un bel delitto avete pensato di organizzarmi un delitto ma allora questo questo cos'è? è solo una scena che abbiamo preparato spiegò Colin per farvi sentire a casa vostra capite? esclamò Archie il puoro capisco mi avete fatto un pesce d'aprile ma oggi non è il primo di aprile è il 26 di dicembre suppongo che non avremmo dovuto farlo sul serio disse Colin ma ma non ve la siete presa molto vero messie puoro su briget alzati gridò ormai devi essere già mezza congelata la figura nella neve però non si mosse strano disse puoro sembra che non vi abbia sentito li guardò impensierito è uno scherzo ditte siete proprio sicuri ma sì ribatte Colin imbarazzato noi non volevamo fare niente di male ma allora perché mademoiselle non si alza non riesco a immaginarlo disse Colin su briget andiamo disse sarah spazientito non starle distesa a fare la stupida siamo realmente spiacentissimi messie puoro disse colin con apprensione nella voce ci scusiamo moltissimo non c'è bisogno disse puoro in un tono molto strano cosa volete dire colin lo fissò poi tornò a voltarsi briget briget ma si può sapere che cosa c'è perché non si rialza perché continua a stare lì distesa puoro chiamò con un cenno desmond lee wortley voi signor lee wortley venite qui desmond lo raggiunse provate a sentirle il polso disse puoro desmond lee wortley si chinò sfiorò il braccio della ragazza il polso ma non si sente niente e fissò puoro ha il braccio rigido buon dio è morta sul serio puoro a noi sì è morta disse qualcuno ha trasformato la commedia in tragedia qualcuno chi c'è una serie di impronte che vanno fino al cadavere poi tornano indietro una serie di impronte che somigliano stranamente a quelle che voi signor lee wortley avete lasciato adesso venendo da sentiero fino a qui desmond lee wortley si voltò di scatto che accidenti mi state accusando accusate me siete impazzito perché diavolo avrei dovuto uccidere la ragazza perché mi domando vediamo un po' si chinò e sollevò delicatamente la mano contratta della ragazza allargandole le dita già irrigidite desmond restò con il fiato sospeso fissò incredulo la scena sul palmo della ragazza morta c'era quello che sembrava un grosso rubino è quella maledetta pietra che hanno trovato nel dolce gridò già disse puoro ma siete sicuro che sia proprio quella certo che lo è con un rapido movimento desmond si chinò e strappò la pietra rossa dalla mano di bridget non avreste dovuto farlo disse puoro in tono di rimprovero niente avrebbe dovuto essere toccato non ho toccato il corpo no ma questo questo potrebbe andare perduto e invece è un elemento di prova la cosa migliore chiamare la polizia più presto vado immediatamente a telefonare si girò di scatto e cominciò a correre rapidamente verso la casa Sara si precipitò al fianco di puoro non capisco disse sottovoce era diventata pallidissima non capisco afferrò puoro per il braccio cosa volevate dire quando avete accennato alle impronte guardate con i vostri occhi mademoiselle le impronte che conducevano al corpo e ritornavano indietro erano identiche a quelle che lee wortley aveva appena lasciato quando aveva raggiunto puoro vicino alla ragazza volete dire che è stato desmond assurdo improvvisamente l'aria fu lacerata dal rombo di un'automobile tutti si voltarono di scatto videro chiaramente la macchina che scendeva il viale e sarah la riconobbe quella di desmond disse è la macchina di desmond deve essere andato a chiamare la polizia invece di telefonare diana middleton uscì di corsa di casa e li raggiunse che cos'è successo gridò ansante desmond è entrato di corsa come un pazzo ha borbottato che bridget era stata uccisa e poi ha provato a parlare al telefono ci ha trafficato intorno un po' ma non riusciva a prendere la comunicazione era muto ha detto che doveva essere stato tagliato il filo così l'unica cosa che restava da fare ha aggiunto era prendere la macchina e andare alla polizia ma perché è la polizia puro fece un gesto bridget diana lo fissò con gli occhi sbarrati ma certo non sarà che uno scherzo ma ho sentito qualcosa sì qualcosa ieri sera credevo che volessero combinarvi uno scherzo messi e puro sì ammise puro l'idea era quella farmi uno scherzo ma venite in casa tutti finiremo per prendersi una polmonite qui fuori non c'è niente da fare finché il signor leewardley non torna con la polizia ma sentite un po' disse colin non possiamo non possiamo lasciare bridget qui sola restando non potete certo far niente di utile per lei disse puro con fermezza su venite è triste è una vera tragedia ma non possiamo proprio più far niente per aiutare mademoiselle bridget rientriamo a scaldarci e magari a bere una tassa di tè o di caffè lo seguirono tutti ubbidienti in casa pever stava per suonare in quell'istante il gong si trovò abbastanza singolare che buona parte degli ospiti fosse già fuori di casa e che puoro si presentasse in pigiama e cappotto non lo diede a vedere neppure con un minimo gesto per quanto anziano fosse era sempre un maggiordomo perfetto non notava niente che non gli fosse stato richiesto espressamente di notare entrarono in sala da pranzo e si sedettero quando tutti ebbero una tazza di caffè davanti puoro parlò bisogna che vi racconti tutto disse una piccola storia non posso darvene tutti i particolari no ma nelle linee principali si posso raccontarvela riguarda un giovane principe che è venuto in questo paese ha portato con sé un famoso gioiello a cui doveva far cambiare la montatura per la donna che sta per sposare ma disgraziatamente fece la conoscenza di una giovane donna molto carina questa ragassa non provava particolare interesse per l'uomo ma per il suo gioiello a tal punto che un bel giorno sparì con quel prezioso oggetto di valore storico che era appartenuto per generazioni alla famiglia del giovane così il poveretto si trovò in un bel imbroglio capite spese considerato il fatto che non poteva permettersi che scopiasse uno scandalo impossibile andare alla polizia di conseguenza venne da me Hercule Poirot e mi chiese ritrovatevi il mio rubino di valore storico ebbene questa giovane donna ha un amico e l'amico ha già alle spalle una serie di affari poco puliti ricatti vendita di preziosi ma è sempre stato molto furbo ci sono dei sospetti su di lui questo è vero ma niente è stato provato vengo a sapere che il signore in questione passerà il natale in questa casa è importante che la graziosa ragassa una volta entrata in possesso del gioiello sparisca dalla circolazione per un po' in modo che non le si possano fare pressioni che non le vengano fatte domande così si combina che vengano qui a Kingsley fingendo di essere la sorella del furbo giovanotto Sara trasalì no non qui non con me ma invece è stato proprio così disse Poirot e tirando un po' i figli eccomi anch'io ospite in questa casa per Natale la giovane donna secondo ciò che ho raccontato è appena uscita dall'ospedale sta molto meglio quando arriva qui ma poi giunge la notizia che anch'io arriverò un investigatore famoso e lei intuisce subito quel che esce a sotto così nasconde il rubino nel primo posto che le viene in mente e poi ha un'improvvisa ricaduta e si mette di nuovo a letto non vuole che io la veda perché di sicuro ha una sua fotografia e potrei riconoscerla molto seccante per lei questo sì ma deve restare in camera sua e il sediscente fratello le porta di sopra i vassoi con i pasti e il rubino chiese Michael credo disse Poirot che al momento in cui si menzionò il mio arrivo la giovane donna si trovasse in cuscina con tutti voi altri a ridere chiacchierare e dare la famosa mescolatina ai dolci di Natale i dolci sono nelle loro forme e la giovane donna nasconde il rubino conficcandolo nella pasta che si trova in una di quelle forme non quella per il giorno di Natale o no sa benissimo che quella è stata posta in una forma speciale lo infila nell'altra quella del dolce destinato a Capodanno prima di quel giorno lei sarà pronta a partire e anche quel dolce partirà con lei ma guardate un po' gli scherzi del destino proprio la mattina di Natale capita un guaio il dolce di Natale nella sua bella forma decorata viene lasciato cadere sul pavimento di pietra della cuscina e la forma va in mille pezzi così che si fa la brava signora Ross prende il dolce conservato nell'altra forma e lo manda in tavola buon dio disse Colin volete dire che il giorno di Natale mentre il nonno mangiava il dolce è stato proprio quel rubino che si è trovato in bocca precisamente disse Poirot e potete immaginare l'emozione del signor Desmond Lee Wortley quando lo vide e bien cosa succede poi il rubino viene passato in giro io lo esamino e riesco a farmelo scivolare in tasca senza che nessuno se ne accorga così con nonchalanza è come se non mi interessasse ma una persona almeno osserva i miei gesti quando vado a letto quella persona viene a frugare nella mia camera fruga anche addosso a me ma non riesce a trovare il rubino perché perché disse Michael con il fiato mozzo voi lo avevate dato a Bridget ecco cosa volete dire è così perché non capisco bene voglio dire sentite un po' cos'è successo Poirot sorrise venite in biblioteca disse guardate fuori dalla finestra e vi mostrerò qualcosa che spiegherà il mistero li precedette osservate ancora disse Poirot la scena del delitto e indicò fuori dalla finestra dalle labbra di tutti i presenti uscì un'esclamazione soffocata incredula perché non c'era nessun corpo disteso nella neve nessuna traccia della tragedia all'infuori di un po' di neve smossa e calpestata non è un sogno vero mormorò Colin debolmente qualcuno ha portato via il corpo disse Poirot vedete il mistero del cadavere scomparso a noi dolcemente i suoi occhi luccicarono dio santo gridò Michael messie Poirot voi siete non avete figuratevi non ha fatto che prenderci in giro per tutto questo tempo gli occhi di Poirot luccicarono maliziosi ancora di più è vero figlioli miei anch'io ho voluto fare il mio piccolo scherzo sapevo del vostro piano vedete e così ne ho combinato uno anch'io uno mio et voilà mademoiselle Bridget sana e salva e senza conseguenze spero per essere rimasta nella neve tanto tempo non me lo perdonerei mai se vi foste presa una congestione polmonare Bridget era entrata in quel momento nella stanza portava una gonna pesante e un maglione di lana stava ridendo ho mandato una tisana in camera vostra disse Poirot severamente l'avete bevuta un sorso soltanto disse Bridget ma sto benissimo sono stata brava messie Poirot buon dio come mi fa male ancora il braccio per quel laccio emostatico che mi avete messo siete stata magnifica figliola mia disse Poirot magnifica ma vedete gli altri brancolano ancora nel buio ieri sera sono andato da mademoiselle Bridget gli ho detto che sapevo tutto del vostro piccolo complotto e ho chiesto se voleva recitare una piccola parte per me lei l'ha recitata e con molta intelligenza ha fatto le impronte con un paio di scarpe del signor Lee Wortley Sara disse aspra ma perché tutto questo messie Poirot che motivo c'era di mandare Desmond a chiamare la polizia saranno fuori bondi quando scopriranno che era tutto uno scherzo Poirot scosse la testa gentilmente ma io non ho pensato neppure per un momento mademoiselle che il signor Lee Wortley sarebbe andato a chiamare la polizia disse il delitto è una cosa in cui il signor Lee Wortley non vuole essere mischiato ha perduto completamente la testa tutto ciò cui ha pensato è stata l'opportunità di non lasciarsi sfuggire Rubino lo ha acchiappato ha fatto finta che il telefono fosse guasto ed è scappato in macchina fingendo di andare ad avvertire la polizia secondo me non lo vedrete più per molto tempo mi pare di capire che conosceva animati per lasciare l'Inghilterra ha un piccolo aereo personale non è così mademoiselle Sara a noi sì disse stavamo proprio pensando di ma si interruppe volevate scappare insieme con quell'aereo vero ebbene è un ottimo mezzo per portare fuori un gioiello fuori dal paese e di contrabbando quando un uomo è in fuga con una ragassa e il fatto ha suscitato scalpore nessuno può sospettarlo di contrabbandare un prezioso gioiello di valore storico oh sì sarebbe stato un ottimo camouflage non ci credo disse ancora Sara non credo neppure una parola di tutto questo allora domandatelo a sua sorella la consigliò puoro gentilmente accennando a qualcuno che doveva trovarsi dietro di lei Sara si voltò di scatto una giovane dai capelli biondo platino era apparsa sulla soglia indossava una pelliccia e aveva un'aria imbronciata era chiaro che il suo amore non era dei migliori sorella un cavolo disse con una breve risatina sgradevole quel porco non è mio fratello così se l'ha battuta e mi ha lasciato qui nei pasticci tutta questa storia è stata una sua idea è stato lui a convincermi ha detto che erano soldi sicuri non si sarebbe mai arrivati all'imputazione per via dello scandalo avrei sempre potuto minacciarli di dire che alì me lo aveva regalato quel gioiello storico Des e io avevamo dovuto dividere il malloppo a Parigi e adesso quel porco mi pianta qui e se ne va come vorrei strozzarlo poi cambiò tono bruscamente più presto me ne vado di qui nessuno può chiamarmi un taxi c'è un'automobile alla porta che aspetta mademoiselle per portarla alla stazione disse Poirot pensate proprio a tutto voi eh quasi a tutto disse Poirot compiaciuto ma Poirot non poteva cavarsela così facilmente quando tornò in sala da pranzo dopo aver aiutato la falsa signorina Lee Wortley a salire in macchina c'era Colin ad aspettarlo sul suo volto da ragazzino c'era un'espressione perplessa ma sentite un po' messie Poirot e il rubino volete dire che avete permesso a Desmond di portarselo via Poirot si incubì cominciò ad attorcigliarsi i baffi sembrò a disagio lo recupererò disse debolmente ci sono altri mesi potrò ancora non so cosa pensare esclamò Michael lasciare che quel farabutto se ne vada con il rubino Bridget fu più intuitiva ci sta prendendo in giro un'altra volta gridò non è così messie Poirot vogliamo fare un ultimo giochetto da prestigiatore mademoiselle provate un po' a frugare qui Bridget infilò la mano nella tasca sinistra di Poirot poi la tirò fuori con un'esclamazione trionfante e sollevò un grosso rubino che scintillò in tutto il suo purpureo fulgore quello che stringevate in mano disse Poirot era una copia senza valore l'ho portata come da Londra nel caso fosse stato possibile sostituirlo con quello vero capite non vogliamo uno scandalo mrs Desmond tenterà di liberarsi di quel rubino a Parigi o in Beggio o nei posti in cui ha i suoi contatti e così scoprirà che la gemma è falsa tutto finisce felicemente non poteva andare meglio lo scandalo viene evitato il mio erede al trono si vede restituire il rubino torna nel suo paese fomo a patrimonio e speriamo felice tutto finisce bene tranne per me mormorò Sara sottovoce aveva parlato così piano che nessuno l'aveva udita a eccezione di Poirot che scosse la testa dolcemente siete in errore mademoiselle Sara voi avete fatto un'esperienza ogni esperienza è preziosa io nel vostro futuro vedo la felicità già facile dirlo per voi disse Sara ma sentite un po' messie Poirot disse Colin ancora perplesso come facevate a sapere che vi avremmo preparato quello spettacolino proprio tutto per voi sapere ciò che avviene intorno a me fa parte del mio lavoro disse Erquiel Poirot e si arricciò un baffo sì ma non capisco come abbiate fatto c'è stato qualcuno che ha parlato qualcuno che è venuto a dirvelo no questo no e allora non volete dirci come avete fatto tutti in coro ripeterono sì ditecelo adesso ma no protestò Poirot ma no se vi dico come ho fatto a dedurlo non ci crederete è come il prestigiatore che rivela i suoi trucchi ditelo messie Poirot su avanti volete davvero che risolva per voi quest'ultimo mistero sì ditecelo ah non credo di doverlo fare resterete delusi su andiamo messie Poirot come lo avete saputo bene state sentire ero in biblioteca vicino alla finestra in poltrona dopo il tè l'altro giorno e mi stavo riposando avevo dormichiato e quando mi sono svegliato voi stavate discutendo il vostro progetto proprio sotto la finestra vicino a me e la finestra era aperta nella parte alta della vetrata tutto qui gridò Colin deluso come è stato semplice vero ammise il Chiu Poirot sorridendo avete visto che ci siete rimasti male meglio così finì col dire Michael così adesso sappiamo proprio tutto davvero mormorò il Chiu Poirot fra sé io no io che dovrei essere quello che so ogni cosa uscì nell'atrio scuotendo lievemente la testa poi forse per la ventesima volta prese dalla tasca un foglietto di carta piuttosto sciupato e sudicio non mangiate il dolce una persona che vi augura ogni bene e il Chiu Poirot scosse la testa pensieroso lui che sapeva spiegare tutto questo non riusciva proprio a spiegarlo umiliante chi l'aveva scritto perché era stato scritto finché non lo avesse saputo non avrebbe avuto un attimo di pace d'un tratto si riscosse dalle sue meditazioni richiamato alla realtà da uno strano suono abbassò gli occhi accovacciata sul pavimento con un cestino e una scopa c'era una ragazza con i capelli color paglia e il grembio la fiori stava fissando il foglietto che Poirot stringeva in mano con gli occhi sbarrati oh signore disse l'apparizione oh signore per piacere signore e tu chi saresti mon enfant mormorò Messie Poirot gentilmente Annie Bates signore mi scusi vengo ad aiutare la signora Ross non volevo signore non volevo fare niente che fosse proibito le mie intenzioni erano buone signore per il vostro bene voglio dire finalmente fu tutto chiaro le mostrò il sudicio foglietto lo hai scritto tu Annie non volevo fare niente di male signore credetemi non volevo ma certo che non volevi fare niente di male Annie le sorrise ma raccontami tutto perché hai scritto questo sono stati quei due signore il signor Lee Worthley e sua sorella non che fosse sua sorella quella ne sono sicura nessuno di noi l'ha pensato neanche per un momento e lei non era affatto malata lo avevamo capito pensavamo tutti noi pensavamo che ci fosse qualcosa che non andava ve lo dico subito signore ero nel bagno di quella lì a portare gli asciugamani puliti e ho ascoltato alla porta e lui nella sua camera e parlavano gli ho sentiti chiaramente questo detective diceva lui questo Poirot è venuto qui bisogna fare qualcosa dobbiamo eliminarlo al più presto e poi ha detto ancora ma con una voce cattiva dove lo hai messo e parlava piano piano e lei ha risposto nel dolce oh signore mi sono sentita il cuore in gola e poi ho creduto che non mi battesse più ho pensato che volessero mettere il veleno per voi nel dolce di natale non sapevo cosa fare la signora Ross quella lì non dò ascolto alle ragazze come me allora mi è venuta l'idea di scrivere per avvertirvi e così ho scritto e poi ho messo il bigliettino sul cuscino così lo avreste trovato andando a letto Annie si fermò senza fiato Poirot la osservò con aria grave per qualche istante tu vai troppo al cinema Annie disse infine oppure la televisione che ti influenza tanto ma la cosa più importante è che hai un buon cuore e non manchi di una certa ingegnosità quando tornerò a Londra ti manderò un regalino oh grazie mille signore grazie cosa ti piacerebbe Annie? una cosa che mi piacerebbe signore potrei avere una cosa che mi piace signore basta che sia ragionevole disserchio il cuore Poirot prudentemente sì oh signore potrei avere una valigetta per il trucco una di quelle proprie eleganti come quella che aveva la sorella del signor Lee Wortley ma non era sua sorella eh? sì disse Poirot sì credo che sarà possibile poi come se parlasse tra sé continuò interessante l'altro giorno in un museo stavo osservando certi pezzi antichi trovati a Babilonia o in qualche altro posto simile roba che aveva migliaia di anni e cosa scera fra le altre cose una scatola per i cosmetici l'animo femminile non cambia vi chiedo scusa signore? niente disse Poirot stavo riflettendo avrai la tua valigetta figliola oh grazie signore oh grazie mille signore Annie si allontanò in preda a una felicità estatica Poirot la seguì con gli occhi annuendo tra sé soddisfatto ah si disse e adesso me ne andrò qui non c'è più niente da fare inaspettatamente due braccia gli circondarono le spalle se voleste mettervi sotto il vischio disse Bridget Hercule Poirot si divertì si divertì moltissimo e si disse che aveva trascorso un ottimo Natale bentornati su narrazioni senza importanza e buone buone feste è stato uno special che ho tirato su veramente all'ultimo minuto quindi spero che non sia uscito troppo male perdonatemi se non è proprio al top ma comunque avevo piacere di fare anche quest'anno qualcosina a tema e sono arrivata un po' lunga e questa è stata l'unica cosa che sono riuscita a preparare ma credo che sarà molto gradita perché so che Agatha Christie è sempre amatissima sul canale quindi sono abbastanza certa che vi farà piacere ascoltarlo io auguro a tutti voi di passare delle ottime feste natalizie di divertirvi mangiare tanto riposarvi se potete spero anch'io di riposarmi un po' ma dopo capodanno quindi ancora per un po' sarò in ballo col lavoro e tutto quanto io mi prendo anch'io un po' di riposo dal canale quindi ci rivedremo dopo l'epifania ma comunque rimanete insomma collegati con i miei social su instagram oppure qui su youtube perché sicuramente vi darò aggiornamenti durante le feste magari capiterà anche qualche cosina speciale non lo so non vi prometto niente come sempre vi ringrazio per essere stati mia compagnia se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo iscrivendovi al canale mettendo un like un commento condividendo il video potete venirmi a trovare anche su instagram cosa che vi consiglio se volete restare aggiornati e io vi aspetto alla prossima lettura e vi faccio ancora tanti auguri di buon natale alla prossima